Ciao ragazzi, mi scuso innanzitutto con voi per la voce perché non ce l'ho, ieri sera l'ho persa, ieri sera abbiamo giocato una partita importantissima che purtroppo non è andata come ci auguravamo, il Barcellona ha vinto la Champions League, possiamo soltanto farvi i complimenti perché ha meritato la vittoria, noi non abbiamo sfigurato, anzi dopo il pareggio abbiamo messo in serie difficoltà la squadra di Luiz Serrique, con questo non voglio recriminare contro la squadra, anzi voglio fare un grande applauso e voglio dire ringrazie ad ogni membro dello staff, ad ogni dirigente, ad ogni giocatore e al presidente perché siamo ritornati ai livelli che ci competono, siamo arrivati fino alla fine in una grande competizione e non sarà certo una sconfitta a fermarci perché secondo me nei prossimi anni lotteremo fino alla fine in una competizione, quindi grazie ragazzi, grazie di tutto, siete stati formidabili ed è stata un'annata fantastica, abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia siamo arrivati in finale di Champions League e abbiamo perso contro una squadra nettamente favorita. Con questo ragazzi vi saluto, se voi la pensate come me, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e condividete soprattutto il video perché penso che ogni tifoso giuventino si rispecchi nel mio pensiero. Con questo vi saluto, vi ringrazio e forza Juve perché noi non molliamo fino alla fine e il prossimo anno saremo ancora protagonisti. Ciao ragazzi!